Ci avevano detto che non ci sarebbero state nuove tasse. In questa finanziaria, in questa stabilità, per i prossimi tre anni sono previsti 30 miliardi di nuove entrate. Ci hanno detto della spending review e sono previsti 12 miliardi di nuove spese. La nostra non sarebbe stata così e non sarà così la prossima, quella che faremo noi. Ciao a tutti, sono Sara Paglini del Senato, sono in Commissione Lavoro. Alessio Villarosa, Capogruppo Camera. Eccoci qua. In Senato è iniziata la discussione sulla legge di stabilità. Il Movimento 5 Stelle ha presentato i suoi 281 emendamenti che andranno a migliorare questa legge. Tutta questa nostra energia è stata in direzione dei cittadini per aiutare le piccole e medie imprese per il sociale, per la cultura e per l'ambiente. Un numero di emendamenti eco rispetto ai 3 mila così tanto annunciati da PD e PDL. Pensate che sono loro al governo e pensate che loro hanno fatto questa legge di stabilità fantastici. Dunque, questi partiti hanno presentato emendamenti clientelari e alcuni di questi sono anche inammissibili. E pensate, abbiamo trovato anche in questo nostro vaglio emendamenti fotocopie. Cioè cosa sono? Sono lo stesso identico emendamento e cambia soltanto la firma del primo presentatore, del primo senatore. Senatore, ci chiediamo perché questo? Non è che per caso vogliono allungare i tempi di quello che è il lavoro nella commissione bilancio? O peggia ancora, non è che il PDL per caso ha ordinato di allungare i tempi per poter allungare anche la decadenza di Berlusconi? Comunque, mentre nelle commissioni si va avanti con la discussione e il Senato aspetta, il Movimento 5 Stelle cosa fa? Abbiamo già spiegato ai cittadini con una diretta dell'altro giorno il lavoro che stiamo facendo e questa diretta e questa nostra assemblea la potete trovare sul nostro canale di Youtube Senato 5 Stelle. Adesso vediamo una sintesi di questa presentazione nel prossimo servizio. Comunque noi ci siamo mossi nell'ottica del rispetto dei nostri 20 punti a presentare questi circa 300 emendamenti. Quasi tutte le coperture sono un aumento della percentuale di tassazione sulle rendite finanziarie, una minore deducibilità degli interessi passivi da parte delle banche, poi soprattutto, che è un nostro cavallo di battaglia, l'aumento dell'imposizione fiscale sui giochi. Mi trovo a dover illustrare o a parlare di due emendamenti che abbiamo fatto come correttiva all'articolo 12 e all'articolo 11, che il trattamento di fine rapporto e il trattamento di fine servizio ai lavoratori venga dato entro sei mesi dalla quiescenza, per cui il suo TFR lo deve prendere nei primi sei mesi, sempre che questo TFR sia di un valore inferiore a 60.000 euro. Se supera la cifra di 60.000 euro ma è inferiore a 150.000 euro, lo si può diluire negli altri sei mesi, la seconda parte, quindi altri 50.000 euro, negli altri sei mesi ancora, le altri 40.000 euro. Il tutto si risolve comunque nei 18 mesi. Noi abbiamo pensato di mettere mano all'articolo 12, naturalmente a quelle che sono le regole delle pensioni. Insomma noi abbiamo bisogno di redistribuire perché le persone non ce la stanno facendo più. All'articolo 12 abbiamo pensato di non far superare il tetto massimo delle 5.000 euro netti mensili a chi ha un sistema invece contributivo e qualora il trattamento sia accumulato con altri sistemi pensionistici, comunque tenere un tetto dove non si può andare oltre, omnicomprensivo, cioè delle varie retribuzioni, varie pensioni o vitalizi, che non superi i 10.000 euro al mese. E poi un'altra piccola cosa, abbiamo pensato anche all'inanzamento delle pensioni minime, dove ci sarà un aumento e questo aumento verrà preso appunto dalle pensioni d'oro. Guardando l'articolo 4 e quello che c'è sul tema delle infrastrutture si scoprono tante cose interessanti. Che cosa abbiamo proposto noi? Beh sostanzialmente proponiamo di intervenire ovviamente con il definanziamento della Torino-Lione, tanto perché sia una cosa chiara, e interveniamo invece sul sistema di trasporti del trasporto secondario sostanzialmente, sostanzialmente quindi andando a valorizzare, migliorare l'efficienza delle ferrovie che devono asportare i pendolari. Un altro emendamento interessante riguarda l'incremento in maniera sostanziale del fondo per il sossegno all'allocazione, abbiamo parlato ieri in commissione, ci sono previsti 30 milioni di euro, noi li abbiamo portati a 200 milioni di euro per ogni anno, per tre anni, almeno ci proviamo a portarli a queste cifre. Sempre sul tema della legge di stabilità, il Movimento 5 Stelle ha scoperto e denunciato l'ennesimo favore alle banche, un favore di 20 miliardi di euro che andrà nuovamente a pesare sulle tasche dei cittadini. Vediamo ora l'intervento della nostra portavoce al Senato, la Barbara Lezzi, la meravigliosa Barbara. Siamo cittadini d'Europa tra i più tartassati. Abbiamo il 40% di disoccupazione giovanile e migliaia di imprese che chiudono ogni anno, il governo cosa fa? Nella legge di stabilità agevola le banche e vediamo anche come. Come ogni altra impresa, nel bilancio delle banche ci sono i costi e i ricavi. Tra i costi, tra i più significativi, ci sono le perdite su credito e il governo cosa fa? Agisce proprio lì. Come? Finora si potevano spalmare questi costi nell'arco di 18 anni, invece ora si potranno spalmare in soli 5 anni. Che cosa succederà quindi? In soli 7 anni ci sarà un aggravio per le casse e lo Stato di ben 20 miliardi. Tutto a vantaggio delle banche e a svantaggio quindi dei cittadini. Ci sono tra l'altro degli aspetti parecchio sconcertanti per noi. Il primo è la retroattività fiscale, cosa che non accade mai soprattutto se ha vantaggio per il cittadino. Per il cittadino si parla soltanto di previsioni che verranno probabilmente nel 2015-2016 con degli sgravi finalmente. E c'è anche un altro aspetto. Per il 2014 nel bilancio viene computata come una maggiore entrata a questa nuova disciplina per 2 miliardi e 600 milioni. Ora noi dalla commissione bilancio abbiamo chiesto a sottosegretari, viceministri, ministri, presidente della commissione, funzionari e tecnici dell'ufficio bilancio di spiegarci questo artificio contabile. Come mai questo vantaggio per le banche si trasforma per un anno in una maggiore entrata per le casse dello Stato? Non abbiamo avuto ancora risposta. Temiamo che questi 2 miliardi e 600 milioni diventeranno un nuovo debito pubblico che si spalmerà ancora di più sui cittadini. Il Movimento 5 Stelle alla Camera in questa settimana ha presentato la propria mozione per ridurre le famose pensioni d'oro. Vogliamo ridurre le pensioni che vanno oltre un certo limite per dare la parte rimanente a chi invece prende quella famosa pensione minima da 495 euro. Anche perché mi dovrebbero spiegare come si fa a vivere con 495 euro al mese. Vediamo cosa si inventeranno questa volta i partiti per non far passare la nostra proposta. Anche perché rispetta tutti i dettami della Corte Costituzionale. Guardate la nostra presentazione. Terminano al mese, metano, 400 euro. Domani pago le medicine, pago tutto. Non mi fa parlare che stiamo tentando a cabbia dei latri. 5,80 prendo. Lasci perdere, lasci perdere. 260 euro al mese. Chiacchierano tutti però i fatti non li fa nessuno. Prendo poco 500 euro al mese. 650 euro. 450. 600 euro di pensione. 5,80 al mese. Per dire pensione è meglio che non ne parliamo. Grazie. Noi oggi come Movimento 5 Stelle possiamo dare 518 euro a 2 milioni di pensionati. Pensionati delle pensioni minime, ossia gente che non riesce ad arrivare a 500 euro al mese. E noi possiamo dare a loro 518 euro all'anno. Sono una cinquantina di euro al mese che servirà loro per le spese, per pagare le bollette. È una tredicesima, una mensalità in più. Siamo sotto Natale e speriamo che questa mozione nostra passi. Dobbiamo fare pressione anche emotiva, mediatica, nei confronti del governo perché ci firmi questa mozione. Perché a rispetto degli altri anni, quando le tredicesime venivano utilizzate per le tasse, succede sempre ogni anno, noi stiamo dando una tredicesima a una categoria che è sempre bistrattata, quella dei pensionati. Due milioni di pensionati che prendono 495 euro al mese. Le chiamano pensioni minime ma sono irrisorie. Ed è per questo che noi tagliando le pensioni a gente come Amato, Alberto Dini e tanta altra gente che prende 20, 30, 40 mila euro al mese, noi abbiamo la possibilità di dare questi soldi, 518 euro, a due milioni di pensionati. Eccoci qua, il Movimento 5 Stelle ha approfondito anche il tema del TAV con un interessantissimo convegno sugli sprechi e gli scandali che girano intorno a questa grande opera inutile, scandali economici che stanno dietro anche a questo folle progetto. Il convegno a breve sarà disponibile in modo integrale anche in rete e so che anche voi alla Camera, Alessio, avete parlato e discusso di TAV, se ci racconti cosa è successo. Sì, anche noi alla Camera abbiamo avuto la ratifica del Trattato Italia-Francia sul TAV e ci siamo battuti come i leoni. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo tirato fuori tutte le porcherie che stanno dietro questa grande opera e abbiamo chiaramente detto a tutti i cittadini da che parte stiamo. Noi stiamo dalla parte della valle, noi stiamo dalla parte dei cittadini. Guardate il servizio. Perché i cittadini sono stanchi, noi cittadini siamo stanchi. Milioni e milioni nelle mani di aziende in odore di mafia. Basta. Scusateci anche i motivi per cui qualsiasi persona sia contraria all'opera venga espulsa senza neanche essere ascoltata. Poi fanno anche le figuracce perché naturalmente all'interno di questi comuni arrivano poi le votazioni. Il PD va insieme al PD. Colleghi, un attimo. Colleghi, colleghi. E si vanno a casa, a casa. L'opera non si farà. Un giorno avremo un Presidente del Consiglio e dei Ministri a 5 Stelle. Gente onesta. Saranno loro a cambiare le sorti di questo Paese. Smetteremo di vergognarci di essere italiani. E ancora una volta, con la sicurezza di chi sa di essere nel giusto, lo ripetiamo. Vinciamo noi. La prego di togliere quell'ostrisione. Colleghi, vi prego. Colleghi, evitiamo. Per favore, grazie. Per favore, leviamo gli striscioni. Grazie. Non siamo bene. Grazie. Molto gentili. Grazie. Altro tema, noi caro il Catasto, la riforma può essere una cosa buona da portare avanti, perché porta vantaggio a tutti quanti, sia ai cittadini, per una tassazione più equa, che alle amministrazioni, per poter gestire meglio il territorio. Al Senato, i componenti delle nostre varie commissioni hanno cercato di capire di più la materia e hanno invitato il dottor Leonardo Gualandi, in un'iniziativa promossa dalla nostra portavoce al Senato, la brava Michela Montevecchi. vediamo ora il servizio. Grazie. Il Catasto dovrebbe essere un archivio dove si descrivono tutti gli oggetti nella loro oggettività, proprio in tutto quello che non cambia volutuariamente, e questa descrizione deve essere alla base di un sistema informativo territoriale sul quale mettere ogni altra informazione. Per poter gestire il territorio, quindi gli immobili nel territorio, immobili come terreni e come fabbricati, bisogna prima di tutto conoscerli. Quindi se il Catasto ci permettesse di conoscerli, saremmo a buon punto. Non posso essere molto ottimista riguardo all'evidenziazione d'abusi, perché ovviamente nessuno denuncerebbe gli abusi al Catasto e quindi quelli vanno cercati. Quando si trovano, il confronto diventa immediato se il Catasto è aggiornato. Attualmente alla Camera il tema più dibattuto è quello del decreto missioni. Stiamo lottando all'interno della Camera, stiamo facendo costruzionismo e bloccheremo l'aula finché non ci daranno ascolto. Cosa vogliamo? Vogliamo l'immediato ritiro di tutte le truppe dall'Afghanistan. È una guerra che dura da una vita e sappiamo tutti benissimo cosa stanno facendo in quel territorio. Quindi vogliamo, nero su bianco, che le nostre truppe torneranno in Italia entro il 31 dicembre 2014. Guardate il servizio del nostro Alessandro che lo spiega molto bene. Grazie Presidente. L'opinione pubblica italiana è contraria alla guerra in Afghanistan. Vorrei sapere come può il Partito Democratico giustificare un voto contrario a questo emendamento nei loro circoli. Come potete? Se ci fosse uno strumento come un referendum propositivo senza cuore, ma un giorno ci sarà, perché stiamo provando faticosamente a costruire la democrazia diretta, non ci sarebbe neanche bisogno di un voto in aula del genere. Se ci fosse stato nel 2003, quando siamo andati in guerra in Iraq, ricordatevi, l'Italia non sarebbe entrata in guerra in Iraq, avremmo risparmiato vite, quattrini e compagna bella. Sì, mi scusi Presidente. Un giorno guarderemo la democrazia rappresentativa come oggi guardiamo la monarchia assoluta, fuori dall'Afghanistan. Bravo Alessandro. Oltre al decreto missioni abbiamo avuto questa settimana l'audizione del nostro Premier, Letta, al Copasir, per che cosa? Per il famoso Data Gate, lo spionaggio internazionale. Abbiamo chiesto la calendarizzazione, ne hanno parlato al Copasir, ora aspettiamo in aula, anche perché il Presidente Letta è stato molto, molto vago. Guardate il nostro componente del Copasir, Angelo Tofalo. Ciao a tutti. Ieri Enrico Letta è venuto al Copasir per riferirci in merito al Data Gate. Ricordo che dopo le rivelazioni di Snowden si è aperto questo caso, appunto chiamato Data Gate, che rappresenta la più grande crisi a livello di intelligence mondiale. Ebbene, abbiamo la chiara impressione che gli Stati Uniti non sappiano realmente cosa Snowden ha in mano, per cui stiano giocando in difensiva. E lo stesso approccio ha avuto il Presidente del Consiglio, Letta. La rabbia però è che, mentre gli altri Stati hanno fortemente alzato la testa e protestato, Letta, quindi l'Italia, ha assunto il solito ruolo di pecorella e questo proprio non ci sta bene. Noi abbiamo chiesto già due settimane fa l'audizione di due tecnici esperti di Aisi ed Aise, quindi parliamo di due analisti e non politici, per capire realmente a livello tecnico cosa è successo. Questo perché? Perché, per farvi capire in maniera semplice, se noi siamo in una stanza e dobbiamo controllare cosa fanno in un'altra stanza, ad esempio dove bevono del vino, non può venire l'oste a dirci che quello è un buon vino. L'oste semplicemente ci deve vendere un prodotto, per cui noi per capire fino in fondo la reale situazione abbiamo chiesto appunto questa audizione, ieri personalmente l'ho fatto presente a Letta. Letta verrà mercoledì alle 9.30 in aula, adesso se non ci concederanno questa audizione entro martedì vuol dire che c'è qualcosa che ci vogliono nascondere. Noi indagheremo fino alla fine con tutte le nostre forze e sono convinto che riusciremo a capire realmente cosa è successo. Ciao. Eccoci qua, anche questa settimana è terminata e vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima ricordandovi che comunque la giornata per noi non è ancora finita, infatti a breve andremo nei nostri uffici a continuare il lavoro degli emendamenti, di capire che cosa stanno cercando di infilarci tra le righe e quindi per noi sarà ancora una lunga settimana lavorativa. Continuate comunque a seguirci, seguiteci sotto, vedete i nostri indirizzi che passano in sovrappressione. Anche io vi saluto, un abbraccio e ci vediamo prossima settimana, mi raccomando guardate il nostro video e fatelo girare. E mi raccomando anche www.parlamentari5stelle.it, stateci vicini e ci vediamo presto. Ciao a tutti, grazie. Grazie a tutti.